buongiorno ragazzi mi raccomando mancano circa una trentina di iscritti per arrivare a diecimila un grande traguardo di questo canale dopo soli due anni con pochissimi video e pochissime live a proposito vi ringrazio per il mio piacere sentirmi dire Giuseppe fai più video fai più live quando ho tempo sempre volentieri purtroppo eh con il lavoro spesso mi capita di avere pochissimo tempo ma ripeto quando ce l'ho eh faccio volentierissimo sia video che live quindi ricordatevi che chi vuole chi volesse sostenere questo canale lo può fare solo ed esclusivamente gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina condividete siamo già tantissimi in più siamo novemila nove e sessanta condividete il link eh sui vostri gruppi telegram chat whatsapp fate iscrivere gli interisti a questo canale è gratis allora zigzag lo davano tutti all'inter io ho sempre avuto dei dubbi non va all'inter a quanto pare purtroppo perché voi lo sapete io sono stato il primo su youtube a parlare di questo ragazzo quando nessuno lo conosceva io ne parlai feci un video addirittura descrivendolo per quello che poi eh si è rivelato eh prima di inter Bologna nel giorno di andata eh lo conosco bene lo seguo da due anni è molto forte deve migliorare la cattiveria sotto porta ma è un giocatore clamoroso zigzag purtroppo sembra che il Milan sia molto ma molto vicino a un grandissimo giocatore poi io vorrei capire cosa ci va a fare al Milan sicuramente uno dei motivi principali per cui lui possa andare al Milan è quello che gioca quando gli pare anche con la febbre al posto assicurato mentre all'inter con Turam e Lautaro forse avrebbe durato più fatica sicuramente che al Milan dove al posto la titolare è garantito quindi questa è una cosa che mi dispiace molto qualora qualora accadesse eh eh zigzag al Milan però purtroppo sono cose che bisogna accettare come bisogna accettare secondo me ragazzi eh il fatto che a Kimi non c'è più che Cansello non c'è più che Maicon si è ritirato bisogna accettare il fatto che il calcio è cambiato per un esterno non bisogna non basta solamente saltare l'uomo e ti faccio un esempio perché a quanto pare Danfris sembra essere risposto a rinnovare il contratto e a rimanere e chissà perché lo stesso Inzaghi che rinnova il contratto infatti vedi la prima cosa che fece Elliot quando arrivò al Milan fu quella di mettere un tetto in calcio a quattro milioni e mezzo la prima cosa che sta facendo qui a rinnovare tutti i contratti tutti in salita nota la differenza chissà perché stai attento reverendo perché te farai una di quelle figuracce questa sarà l'ultima figuraccia che farai perché poi dopo ti dovrai nascondere perché farai una brutta figura caro reverendo comunque su Danfris non sentite tutti i colori è scarso non salta l'uomo chi segue questo canale sa benissimo che due anni fa anzi prima dell'arrivo di Danfris c'erano gli europei siccome a Kimi era in partenza perché i cinesi non avevano un euro io dissi prendiamo questo Danfris perché lo vedi giocare in nazionale non lo conoscevo io Danfris l'ho scoperto durante gli europei di tre anni fa lo vedevo dialogare benissimo con Depay davanti lo vedevo portare bene la palla su lo vedevo sgropare tecnicamente lo vedevo potabile perché non è vero che è scarso non è a Kimi non è cansello non è mai con ma non è scarso uno ti fa cinque sei gol all'anno uno ti fa cinque sei assist all'anno non può essere scarso non avrà il piedino fatato ma non è scarso perché poi sento dire eh ma Danfris non salta l'uomo ovvero non salta l'uomo ma ha altre qualità si inserisce bene è fortissimo di testa come ho detto prima i suoi cinque sei assist all'anno che li fa sempre bravissimo nelle sgroppate in avanti ti fa bene la diagonale difensiva fisicamente è tosto e lo passi malissimo perché lui sa sfruttare benissimo il suo fisico soprattutto nelle usure difensive fisicamente non lo superi perché è d'acciaio Danfris parliamoci chiaro e pochi si ricordano ragazzi che a Kimi che a tutti tutti vogliamo bene a Kimi quando il cinese eh eh lo ha venduto eh ci ha perforato il cuore a tutti a Kimi ti vogliamo bene ma ricordiamoci che a Kimi l'ha sempre sofferto Teo Hernandez a Kimi in fase difensiva fu ridicolizzato da Teo Hernandez mentre Teo Hernandez quando vede Danfris si mette a piangere perché non la vede la palla con Danfris so cose che vanno dette perché il calcio è vero che è importante saltare l'uomo creare superiorità numerica ma il calcio non è solamente saltare l'uomo e te lo dice uno e quando giocava giocava solo tra un saltare l'uomo mi sono spiegato o no quindi metti da una parte e togli dall'altra togli da una parte e metti da quell'altra nel complesso te devi vedere quanto influiscono le prestazioni di un giocatore nella squadra a chi mi influiva in un modo e Danfris influisce in un'altra poi i gusti sono gusti guira sì questo guira sì con 17 18 milioni lo prenderei non subito lo prendo vado a prendere io me lo carico in spalla e lo porto a Milano è un giocatore della nuova guinea quindi ci potrebbe esserci la coppia da la coppa d'Africa ti sparisce per due mesi però ecco se parliamo di 40 50 lascia perdere i cinesi se parliamo di 18 20 sì tutta la vita anche perché se vi ricordate in Bundesliga ci fu un giocatore che giocava in coppia con Dzeko che fece una stagione spettacolare che era grafite ve lo ricordate poi dopo sparito anche lui fuori dalla Bundesliga provò il grande salto sparito ma comunque a me guira sì piace eh fa tantissimi gol 28 partite 28 gol se non sbaglio più due assist e lungilineo reattivo scatto un giocatore che comunque eh vede benissimo la porta sente l'odore della porta sono quei giocatori che a me piacciono tantissimo se vogliamo spaccare il capello in quattro a livello fisico essendo lungilineo magari potrebbe soffrire un po' la fisicità dei difensori italiani eh nei contrasti nel tenere la palla potrebbe avere qualche difficoltà ma è comunque un giocatore forte non lo conosco benissimo ma lo conosco un giocatore forte che per diciotto venti milioni lo prenderei tranquillamente quindi eh benvenga a guida sì eh Arnautovic l'Inter lo vuole cedere ma come ti avevo detto l'anno scorso non lo prendiamo perché ha trentacinque anni eh a Bologna è stato fermo sei mesi poi dopo non lo dai più via e Arnautovic ti deve accontentare se trovi qualcuno ti paga l'ingaggio di cosa stai ragionando stessa roba del ballerino io te l'avevo detto quest'estate ci sono i video cedilo a sette otto milioni perché se ne chiedi quindici sedici diciassette non te lo riscattano te lo rimandano indietro fa il giro delle sette chiese e ti va via a zero come Gioao Mario ed è questa la fine che farà sia il ballerino purtroppo che Arnautovic non serviva un genio per capire queste cose qui però purtroppo c'è anche da dire che in una situazione economica vergognosa in cui eravamo e ora tutti hanno capito come il signor Zango voleva andare avanti con l'Inter facendo prestito paga debito fottendosene della situazione economica e del fatto che ormai noi eravamo entrati nel milino nonostante tutto continuano a romperci i coglioni ma eh i signori della Juventus se io fossi i signori della Juventus starei zitto idemi quelli del Milan che c'hanno ancora la guardia di finanza in casa quindi sai poi dopo lì si apre un mondo magari ne parliamo nel prossimo video comunque io ti dico in conclusione di video a parte che sono felicissimo io ora ora io mi sento sicuro con O3 prima che cederà perché tanto più cederà a breve ma mi sento sicuro con O3 perché i cinesi erano una mina pagante una scheggia impazzita i cinesi io sono contento se arriva Danfris e sono contento se arriva Guirassi ciao Inter Grazie a tutti